Aiuto! Ehi! Oh mio Dio, grazie! Ehi! Cosa credi di fare? Kenny! Stai rovinando tutto! Ti prego, slegami, ci farà ammazzare tutti! Aspetta, aspetta, aspetta! Eh, era un giro di prova, ci sono! È il senso di colpa del superstite, fa strani scherzi! Che diavolo fai, Kenny? Ehi, perché non te ne vai da qui, Nick? Ma allontanati, perché mi sembri un po' intimorito dalla mia indubbia sicurezza e dal mio carisma, Nick! Ah, ehi! Ho cambiato nome! Adesso chiamami Kik! Adesso te lo do io un pugno! Vedi la gratitudine? Ehi, aspetta, Kik suona molto come Nick! Lo sapevi che posso realizzare anche armi combo? Ma che diavolo! Pensi davvero di poter arrivare qui e fare il saputello? No! Non salvare la vita della gente come se niente fosse, Nick! No! Dovrei farlo io! Io sono l'eroe! Sono io quello che si è allenato per anni nello scantinato di mia madre! Hai capito? Io! Sono io! Guardami! Tutto quello che sai fare tu, io lo faccio meglio! Sai una cosa? Ho deciso di andarci piano con te perché sembra che ti serva una pausa! Ehi! Forse... Forse... Forse ti serve... Forse ti serve una mano, eh? O meglio, un calcio! Un calcio! L'hai capito perché mi chiamo Kik! Rispondimi subito perché questi mi mangiano! Un calcio! Un calcio! Un calcio! Un calcio! Un calcio!